Ciao a tutti ragazzi, sono Useles e benvenuti in questo mio nuovo video su Rocket League. Oggi siamo sempre in compagnia di Francesco e oggi mi sa che dovreste sentirlo meglio perché sto provando ora un nuovo metodo, un nuovo modo per far sentire la mia e la sua voce. Speriamo che si senta bene. In questo momento sto registrando con l'auricolare che danno in promozione con la Versace 4 perché con le cuffie non so perché non si sente. Invece con l'auricolare si sta sentendo molto meglio. Ho già fatto delle prove, alcune sono venute meglio, alcune peggio. Ora vediamo come va questa partita. E poi diciamo se viene bene, vediamo di riuscire a fare qualcosa. No dai, a parte di scherzi. Mi sembra che già ho messo il mio primo video sul canale. Ora non so bene, non so i commenti che avete scritto, se eventualmente li avete scritti perché sto registrando tutti i video di seguito e quindi ora non ho il tempo, nemmeno il tempo, io avendo la scuola non ho il tempo di stare là molto tempo sulla Playstation o sul computer o quello che sia a montare, caricare, di dare questi quanti video. Quindi sto cercando di farmi tutto quanto in un giorno, diciamo almeno il più possibile. Grande Francesco. Tutto quanto in un giorno così cerco di portarmi più contenuti. Comunque, eh sì sì, comunque intanto non mi stavo concentrando, stavo pensando a parlare e stavo andando così a caso. Ah bene, comunque ragazzi scrivete nei commenti se ora si sente meglio la voce di Francesco. Se volete, eh, se volete mi scrivete nei commenti se volete anche video con Dante oppure con altri miei amici che hanno Rocket che in questo momento non sono mai appassi sul canale o per volere loro oppure perché diciamo non ho avuto tempo per registrare con me. Quindi dai. Comunque ragazzi, io cerco sempre di parlare nei video mentre gioco, però diciamo non è così tanto facile sempre trovare un qualcosa su cui parlare. Io cerco di diciamo fare una cosa generale, un discorso generale sul canale, su quello che porterò, su diciamo tutto quanto quello che sto facendo in questo momento. anche se è da pochissimo che l'ho aperto, quindi ancora non ci sta molto da dire. Però cercherò comunque sempre di intrattenere meglio che posso. Comunque ora, parlando del gioco. Allora Francesco, ora puoi parlare pure tu, ho finito tutte quante le news e robe. Ora puoi anche parlare, tranquillo. Che cosa hai fatto? Ah, ho capito, sei uscito dalla partita, no scusa. Ah, papere! Dai. Papa Frank insegna, ma ti aspetta un pugno. Sì, cos'è quella voce là? No, no! Oddio, bellissimo. No, vabbè, dai. Comunque ragazzi, se volete mandarmi, come dicono in ogni video, se volete mandare la richiesta alla notizia, il mio nome sapete qual è. Oddio, sto per farmi autogol. Bruttissima cosa. Il mio nome sapete cos'è, quindi se volete mandarmi la richiesta, non c'è nessun problema. Basta che mi scrivete in un commento che siete voi, diciamo. Che mi seguite, eccetera. Scusate il momento di pausa, è che stavo sistemando un secondo le cuffie. Bellissimo il tentativo suo, no? Comunque. Allora, stiamo vincendo, stiamo vincendo, stiamo vincendo, dai, quindi vediamo di... Sì, sì, tre gol suoi. Vediamo di riuscire a fare qualcosa pure noi. Dai. Ecco qua il terzo gol loro. Cioè, io sono inutile. Sono semplicemente inutile. Perché parlo e non mi concentro, va bene. Comunque... Mazza che bella macchina che c'ha questo... Cioè, che c'ha qui, Francesco. Scrivetemi nei commenti, comunque, se volete anche altri video, sia su Rocket League, ma anche altri, come sto portando molto ora Black Ops 3, che è uscito quindi anche da poco, e quindi, diciamo, anche nuovo su YouTube. Quindi, se volete altri video su Black Ops, oppure, eh... Oppure, quel che sia Assassin's Creed. Per ora i giochi che voglio sono Assassin's Creed, Rocket e Black Ops. Poi, tra un po', mi comprerò anche Star Wars Battlefront, mi sembra che si chiama. Poi, eh... Mi comprerò sicuramente anche Titanfall. E vediamo se... Quando usciranno i peggiori. Ah, è vero, scusa, scusate, scusate. Ah! No! Eh, mi sono confuso con la Xbox One. Eh, vabbè, vabbè. Dai, ci sta, qualche ora ci sta, dai. Sì, sì, i fail, i fail, bellissimi. No, comunque, ragazzi, scrivetemi nei commenti, se sapete... Cioè, se volete che vi monti pure canzoni nei video o quel che sia. Sottotitoli, se non riuscite a sentire quello che dicono i giocatori nel gruppo. O quello che volete. Sì, i sottotitoli non ce la farò mai a mettere. Tipo, mi viene più di un giga di video, però va bene. Tipo, di 5 minuti un giga di video mi viene. Però, dai. Poi, ragazzi, spero di riuscire a portarvi tutto quanto, diciamo, più video possibili a settimana. Perché comunque, avendo la scuola, le attività sportive, tutto quanto quel che volete, diciamo, non sono proprio così attivo. Anche se, come vedete, sto, diciamo, cercando di metterci la tuta per portarvi almeno, non vi dico, 5 video a settimana. Perché, comunque, i tempi per caricare sono abbastanza lunghi. Ecco come si vanno il secondo gol. Però, va bene. Cioè, il sesto, scusate il sesto gol. Tanti due minuti, insieme. Comunque. Che c'è? Valà, 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 valà. Un gol, io dai, un gol solo. Voglio un gol, per favore. Vai. No. Dai. Il potere del diaframma. Dai, 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 dai. La paro, la paro. Oddio, l'ho parata. Oddio, l'ho parata, faccio il gol. Non è vero. Non è vero mai nella vita. Trenta secondi, dai, ciao. Intanto ho ucciso uno. Ecco, beh, ciao. Vabbè. Comunque, ragazzi, se volete, se iscrivete nei commenti quanti, anche quante partite su Rocket League o su Black Ops 3, che sia. Quante partite volete, se una, due o tre partite. Poi, sulla Playstation, un video può durare massimo 15 minuti, quindi farne tre può diventare un po' complicato. Però, io ci provo. Dovrei fare molti più tagli, però... Oddio, no. Oddio, no. Dai. L'ho levata via tantissimo. Oddio, se ce la faccio a fare gol così. No. Che gol che facciamo. Dove sta? Dove sta la palla? No turbo. Oh, no turbo, no money. No turbo, no money. Oh, mio Dio, cosa fa? No, ok. Vabbè. Comunque, ragazzi, per questo video vi poterò pure la seconda partita. E... Guarda, che bello. Però, io, ragazzi, ho la bandiera di YouTube. Molto meglio. Ok, io voto per la rivincita. Voto pure tu, Francie. Puoi fare un'altra partita? Eh, sì, sì. Ok, va bene. Allora, per questo video vi poto pure la seconda partita. Poi, eventualmente, se in altri video non avessi tempo da portarvi, per portarvi pure una seconda partita, ne erete soltanto una. Basta, appunto. Io ci provo a farne due, però comunque il video per caricarsi ci mette anche più tempo. Oggi, per esempio, ho editato e caricato anche il mio primo video su Black Ops, che sarebbe anche il primo video del canale, che mi ha messo in tre ore soltanto per 300... 400 mega. Ecco, 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 anche per 400 mega. Ecco, ecco, per 400 mega, quindi diciamo, è anche abbastanza tempo. Sono due le cose. O li carico di notte, oppure, non lo so... Oppure vi porterò qualche video in meno di giorno Va bene, mazza, che ti, no, ti saltai, ce la faceri Comunque scrivetemi anche se la grafica va bene Oppure la volete un po' più alta Io dovrei averla messa al massimo Però non so, tante volte mi sbaglio Pure anche, soprattutto la qualità, la qualità audio Questa qui, quella lì è la cosa che mi interessa di più Eh vabbè, cioè gli ho fatto l'assist, gli ho fatto Cosa? No, non ho capito, scusa Oddio, sto muovendo di tutto quanto il mondo Speriamo che si sente ancora Stavo muovendo di tutto quanto il mondo cercando di No, volevo farlo io al gol Oddio mi è caduto il microfono Aspettate un secondo ragazzi Ok Non è vero mai nella vita Aspettate un secondo eh Mi scuso per... Ok, ora dovrebbe sentirsi di nuovo Non potete capire, non ho webcam Però non potete capire come sto messo in questo momento Dove ci do il microfono Cioè non potete capire Sull'orecchio quindi c'è qualcosa di impossibile giocare Oddio No, 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 non c'ho il turbo Non c'ho il turbo Ok, ora c'ho il fitto Comunque Cerco sempre di non farvi Diciamo aspettare troppo Per una parola o l'altra Però a volte non so più di cosa parlare Quindi è un po' difficile Oddio, attenzione Spalla allontanata Cerca di fare pure il gol Oh mio Dio Cosa fa? No No, il turbo Mandala via Ok, cosa ho fatto? Senza volerlo ho parato tipo il mondo No Prendi il turbo No, non l'ho preso il turbo Ok Vai, 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 vai No, no Questo no Dai, dai Che ce l'assiste Dai che ce l'assiste No No, dai Oddio, ok Va bene, va bene Ci sta, ci sta, ci sta tantissimo Sto tipo muovendo il mondo qua Intanto va bene Sì, sì, va bene Il microfono sta qua Ok, tutto quanto è a posto Ovviamente ogni volta Prima di caricarlo un video Lo risento per sentire Tutto quanto Se devo fare i tagli Ovviamente Però se volete Voi anche che Mentre edito E monto il video Faccio qualcos'altro Ecco, mi sono fatto Quell'autogore Grazie Metto anche musica Oppure Non so Tipo come fanno Alcuni youtuber Tipo Gabbo Di squared Che fanno ogni tanto Durante il video Fanno Metti un like Così Con lui che sta così Dai Può essere carina Come idea Però Vediamo come va Intanto Intanto spero Che questi video Vi piacciono Comunque Ecco Ecco No Francesco Prendi la palla No Comunque io sto Di seguito Come vi ho già detto Quindi non so ancora Come sono andati I vecchi video Ho visto Poco fa Ho visto Il primo video Che ho pubblicato Quanto è arrivato Non ho visto Mi sembra Subito appena caricato Qualche like Non mi ricordo Ora Ecco Eh sì sì No 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 Vabbè dai Cosa mi sono cagato male Nella vita Guardalo No guarda Io tutto fiero Là Stavo prendendo palla E le 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 No vabbè dai raga Comunque Ditemi se volete pure Video Non solo in compagnia Di miei amici Ma pure Da solo Per esempio Che faccio Non so Una partita zombie Oppure altre Una partita Duello Da solo Su rocket Sempre Oppure Proprio serie da solo Come non so The last of us Oppure altre Che Però qua non ci sta Mi sembra Soltanto su No no Sì The last of us Qua si Deve essere Sì The last of us Ci sta Ecco Sì mi ricordo Hanno fatto L'esplosiva PS4 Mi ricordo Quindi se volete Non solo Non solo in collaborazione Di miei amici Ma anche Da solo Schietrano nei commenti Comunque Ok Io dico No 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 Che culo Dai no dai Sta narando Va bene Comunque dai Da questa partita Stacco Chiudo il video Anche per non farlo Doare troppo Comunque poi vedo Quanto durano Di solito Come Di solito Io faccio un video Massimo 13 minuti Massimo Massimo Quattro ore Diciamo Per Diciamo